Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua che dobbiamo giocare a Stumble Guys come vedete qua c'è la skin del vampiro sono uscite le nuove skin la sto lanciando ora perchè dovrebbe essere tipo il secondo video che faccio uh sono uscite altre due questa qua stava già sono uscite questo e questo scheletro Captain New York e poi ovviamente le skin più belle il fantasmino molto bello e la rucca e Frankenstein quello che mi piace di più è quella che è appena uscita da poco lo scheletro mi piace molto qui la andiamo appena in partita amon 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 comunque iscriviti al canale e lascia like ovviamente attiva la campionella per non perdervi nessun video ovviamente condividerlo pure se è proprio vuoi far ridere tutti i tuoi amici o per te nolli vedi qualche video vuoi far ridere qualcuno guarda il mio canale stupido red pensava 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 red pensava credo dovrebbe stare più avanti o si è già qualificato prima di red c'era una specie di red vediamo se si è qualificato o no mamma mia vediamo se c'è la nuova skin no c'è solo il fantasma coso no stanno solo due skin nuove di quelle leggendarie le vorrei tanto io intanto scrivete che film della disney vi piace di più il mio re leone e soprattutto il vostro cartone e anime preferite la mia anima preferita è goku poi di cartone è capitano mutanda troppo top di mutanda no ragazzi ero così e facciamo il trick eh quando non hai il tempo bisogna sempre fare il trick vedi qua non vuoi perdere tempo forse ho perso tempo e ora come faccio mamma mia niente ci siamo eliminati ma a noi non ci interessa facciamo altre partite uh aspetta che sto visto gemme gemme 70 gemme andiamo a vedere andiamo a vedere 90 io devo fare quella rara quindi continuiamo a giocare poi farò il short sulle bandiere col cubo di rubik originale ai soli 15 euro oh la stessa mappa di prima raga la stessa non lo sa mirandar non lo sa mirandar e dai mannaggia i miei piani vengono sempre cambiati per colpa di questi uh aspetta uh aspetta un attimo muto comunque vediamo poi gli altri tutti i giocatori questo qua è quello là che stavo prima contro questo ne sto notando con la schiena uguale raga non mi ricordo ne manco chi è quello là che mi ha mandato i pugni è stato gioco un attimo col cubo di ruby kofta la francia raga la francia cerchiamo di farla russia raga poi vi dico se riesco a fare la russia non riesco qua c'è ancora la francia allora qua deve cambiare colore non c'è il rosso è proprio a fare così no aiuto la partita la partita intanto ho fatto perciò nella russia no al contrario mannaggia la russia al contrario ho fatto ooooh che trick no mannaggia lui lui sta dietro lui sta dietro ok andiamo qua andiamo qua facciamo questa parte andiamo qua facciamo questo trick facciamo pure quest'altro no già l'ho fatto dovremmo provare raga questo gioco intanto scarichiamolo nuovo gioco scarichiamolo allora partiamo molto per un video per di fare negazione sul web io voglio di scaricare questo gioco e io lo scaricherò no 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 Devo chiudere la parte che devo fare la live su TikTok Tante cose importanti Iniziamo a mettere qui Ok, 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 ok Ok, andiamo qua, così Ok, facciamo pure il drink È qualificato per il... Però, andato giù Tanto voglio entrare la computer su Roblox Ok Torna a televisione che però non funziona per proprio il mio sorello Ma vai, 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 vai Allora ragazzi, voglio capire Attenzione, attenzione, la mappa, la mappa Ok, ok, ok Qua ragazzi, ci sono abbastanza trick da fare E soprattutto Da provare Non stavo facendo quel trick Ok Ok, ok, non devo cadere Non devo cadere Prendere così Andare qua Ok, che schivata Ok, prima Uno, due, tre Secondo Ma Non è niente, l'importante è stare alla finale Poi ragazzi Poi ragazzi faccio uno short E poi andremo su TikTok Novo bagnino Non è niente, non morire No, 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 na, na, no, 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 sitio e quando un iscritto si iscrive o da una cosa, farò questa musica, uuuh lava russs, lava russs o l'ultimo vuoco, per al mare si ridono il canale, una piazza, un'umore che era un po' di nuovo il canale èicsa, un'umore che era una piazza, un'umore che era più Rinzata, un'umore che era stata una vita, la piazza, un'umore che era un'umore che era una piazza e altre richiede no mannaggia mannaggia e vabbè io credo che pure questo video si potrebbe concludere qui e ciao